Inizieremo il 6 novembre con Utelemper che inseguiamo da una decina d'anni, che è la regina del teatro canzone internazionale. Invece ad apertura di danza il 20 novembre avremo Saburo Teshigawara che è un grandissimo coreografo giapponese. Quest'anno Leone d'Oro alla Biennale di Venezia e quindi apriremo davvero nel segno della grande danza internazionale, un appuntamento davvero di grande forza. Con lui sarà in scena con Tristano Isotta, una versione naturalmente in danza con la sua danza, una danza contemporanea, una danza molto innovativa che lui stesso ha inventato per questo, la sua grandezza. Proseguiamo con una compagnia siciliana che è quella di Roberto Zappalà, un centro coreografico nazionale, Patria. L'Oro alla Biennale di Venezia è l'occasione di riflettere in termini anche civili, in qualche modo attraverso la danza, su quelli che sono i nostri vezzi di italiani, i nostri vizi. Devo dire un spettacolo molto forte e di grande energia riscaldato proprio dal calore siciliano della compagnia. Proseguiamo con una residenza di allestimento, quindi un'altra delle vocazioni della città di Pesaro, perché è anche appunto luogo di preparazione di spettacoli, con il collettivo Mine, che presenta un lavoro molto interessante su base tecno, quindi cambiamo, lasciamo il neoclassico per un lavoro con una fisicità ancora più forte. E poi ospitiamo uno strano balletto contemporaneo con un tema molto affascinante, dal film The Danish Girl, e quindi una transizione in qualche modo da uomo a donna all'interno di una coppia, però molto solida, che continua ad esserlo anche dopo la trasformazione dell'elemento maschile della coppia. È Lily Elber Shaw, con dei grandi danzatori, capitanati da Silvia Zoni, che è una delle nostre etuali più importanti a livello internazionale. E chiudiamo con la compagnia privata, non legata alla fondazione lirica, che è la Terballetto, che presenta il suo Storie, quattro storie intrecciate per una compagnia davvero tra le più importanti d'Italia. Questa nuova rassegna di danza contemporanea, con un'offerta molto molto innovativa, anche dal punto di vista delle coreografie, anche dalla presentazione proprio sul palco, di una forma di arte, secondo me, molto molto innovativa. Ci sono all'interno della nostra commissione degli insegnanti che hanno chiesto anche di svilupparlo a livello educativo nelle scuole, soprattutto superiori, anche con delle attività matutine, proprio per portare l'istruzione all'interno del teatro, all'interno della conoscenza culturale e di tutta l'ottima offerta che AMA sta offrendo sul panorama cittadino.